sulle materie prime pino spagnolo è sicuramente l'interprete più significativo lavorando col ferro e la ceramica che sempre in lui sono equiparate senza definizioni gerarchiche e sono materiali che derivano dalla terra sono l'origine e il principio di ogni cosa il suo lavoro il suo concepire la scultura è orientato proprio nel far vedere l'energia che sottende a questi materiali che vengono lasciati puri sferzati graffiati dai segni che si pongono sulle loro superfici proprio per mettere in luce quella dinamica intrinseca alle qualità specifiche e proprie del materiale stesso